Vi deluderò dicendo che si tratta di un video e non è una foto. Giupa allora che ti... chi è deciso per stasera? Sto pazzo! Dipendiamovi. Non lo so, aiutatemi voi. Il dilemma del giorno. Giupa ha accettato di fare un cortometraggio in Accademia di Belle Arti di Napoli senza essere retribuito. Alle 5 del mattino, venendo solo come un piove, Stucillo fa paura, sappiccia e fa rumore. Salvatore Barbaragallo non ha saputo cosa consigliare. Io non ha saputo di... Stasera, voi da Cavana, consigliare al gruppo al gruppo, se stasera al 10 o meno, quindi non hai a firmare le arti di Napoli, mandato questa messa, 8, 4, 4, 9, 9, 10. Le persone che state, le preferite di giupa? Aiuto, un'altra volta, mi indagano le volte sicuramente. Che vorrei? Ah, bugia! I variati, i variati. Possiamo, se lo chiede. Perché stai abitando, perché stai abitando l'andante. Te la vedete finita. Fermo il mic. Cosa facciamo? Ci sto ancora... Ed ecco l'ultimo giorno di Alessia, Alessia Rotella da Lido Mappatella. Alessia, lascia un messaggio. Ti odio Giovanni. Ti odio tutto il cuore. Però io dico sempre una cosa, sai cosa dico? L'amore è un sentimento vicinissimo... No, scusami, ripetiamo. L'odio è un sentimento vicinissimo all'amore. È sempre il sentimento. Quando c'è il sentimento non c'è il sentimento, non c'è il sentimento, non c'è il sentimento. Un lele, un lele, per aiutarlo. Allora, questo è un messaggio che ti ha messo, anche se in questo momento si è qui insieme a noi. Che cosa è successo? La testa a sorpresa dichiara che... Lo aiuto. Ad esempio, questi due giorni che guardano attraverso lo schermo sono davvero emozionati. Te l'hanno metto. Mi faccio fare le soddisfenze. E quindi lo aiuterò. Perché è questo mio lavoro. Non è che lui si apre e non è che cosa sarà. E tu sai che sei il perno principale di questo gruppo un po' misto, diciamo, un misto fisico. Trovo un altro amico. Allora ti chiedi una promessa, voglio strapparti una promessa. Tu tra i tuoi quotidiani, tu ti accorgerai meglio, tu devi trovare più spesso. Mi fai questa promessa ufficiale? Assolutamente sì. E noi ti promettiamo che dovremo trovarti quanto prima a Catale. Ci spero. Salvatore Barbagallo, che come dico io... Non tramonta mai, una cosa del genere, diciamo. Evergreen, è un evergreen, Salvatore, diciamo. Dopo lo metti e sta bene, non gli luoghi. Niente, ecco. Dicei luogo, lago, in tutti i luoghi, in tutti i casi. Mi fa piacere l'incontro che anche a Vestia, oggi. E datevi un bacino. Dicei luogo, lago, in tutti i casi. Dicei luogo, in tutti i casi. Dicei luogo, in tutti i casi. Grazie per la visione!